La polizia postale di Bari e i carabinieri di Foggia hanno arrestato un'ex sacerdote di 55 anni per violenza sessuale su una vittima che all'epoca dei fatti aveva 11 anni. L'uomo è accusato anche di divulgazione di materiale pedopornografico. Secondo un'indagine che è stata condotta dalla procura della Repubblica di Bari, all'indagato era stato fatto di vieto dalla chiesa di avvicinarsi ai bambini frequentanti la parrocchia in un centro in provincia di Foggia e di prestare a qualunque titolo servizio nella catechesi per bambini.